Sono molto vicine a quota 2000 a soglia necessaria per poter indire un referendum abrogativo le firme raccolte dal comitato a sostegno dell'antistadio e consegnate agli uffici preposti del comune di Montevarchi. Un numero cospicuo che potrebbe essere ulteriormente incrementato con un'ulteriore consegna, così si legge in una nota, che sempre il comitato sarebbe in grado di sbrigare nei prossimi giorni. L'eventuale cessione dell'impianto sportivo insomma è al centro di un dibattito sempre più acceso. Adesso c'è il referendum che è in piedi e c'è la questione della proposta alternativa che era quella che per esempio noi avevamo individuato concordemente anche con altri sui giardini spinelli che sono totalmente inutilizzati. C'è però un percorso virtuoso da avviare che è quello del confronto con l'impresa appaltatrice e con la situazione giuridica che deriva dall'essere in atto un rapporto di natura contrattuale. Molti cittadini che hanno espresso la loro contrarietà alla cessione per soddisfare prosegue la nota, la continua richiesta di persone che ci chiedono di firmare. Il comitato ha organizzato un'ultima raccolta per sabato 18 maggio in occasione della festa del Pestello. I cittadini hanno dato una grande risposta perché guardate andare a trovare e raccogliere le migliaia di firme per gente che non è ad usa a fini politici eccetera. Dopo l'apertura al dibattito mostrata nei giorni scorsi anche dal consigliere PD Alessandro Bencini è arrivato il momento di valutare ogni alternativa. Io aspetto il Francesco Grasso, colui che voleva essere ricordato come l'uomo delle cittadelle sportive e dia una risposta in tal senso. Se le cose non sono fattibili non sono fattibili ma se lo sono c'è il dovere perlomeno di provarci. Ecco proviamoci e vediamo qual è la risposta. Di fare una struttura per andare a fare un'anta derogalizzata a 3-4 km quando si parla di centro della città di virtualizzare il capoluogo insomma non mi sembra proprio il caso. All'ospicio di Bucci si unisce anche il comitato. Ci auguriamo che tali sollecitazioni, conclude la nota, che sono state recepite da autorevoli esponenti della maggioranza, siano accolte anche dal sindaco, dagli assessori e dalla giunta.